Alight, meno 55 kg, Mattia Cenzialini contro Matteo Agatensi. A seguire, finale, MMA, contatto pieno, meno 80 kg, Danut Andrei Frunza contro Enrico Reverberi della Combat Academy Jiu Jitsu. A seguire, iniziamo con categoria MMA, contatto pieno, categoria signores, meno 66 kg, Davide Scavone contro Filippo Musso e Alessandro Toni contro Ivan Schettino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.